Salve a tutti ragazzi, sono sempre Eomenza, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Voi non avete neanche idea di quanta voglia io ho in questo momento di registrare finalmente la nostra nuova avventura. Conclusa la carriera natore con l'Inter che ha portato tantissimi successi e ha fatto appassionare tantissimi di voi, oggi incomincia una nuova avventura che spero vivamente voi seguiate e spero vivamente vi faccia emozionare e appassionare come quella precedente. Vi ringrazio signori intanto anche per il successo dello scorso episodio, vi avevo chiesto di votare il campionato e sono arrivati più di 2500 voti, che per me sono assurdi, e più di 1000 commenti sotto a quel video. Numeri secondo me che non mi sarei mai aspettato veramente. Ragazzi ovviamente cercate di capirmi, è una situazione un po' strana, è difficile, anzi è impossibile mettere d'accordo tutti. Infatti più di 1600 voti sono andati sulla Premier League, ma voi non vi dovete preoccupare, perché avremo la possibilità e faremo tantissime carriere allenatore. Sia andremo sia in Spagna, andremo in Germania, chissà, andremo anche qualche altro campionato magari un po' più strano. Quindi veramente ragazzi supportatemi, perché secondo me la cosa più importante è come uno gestisce la squadra, e non che squadra gestisce. L'importante nella carriera allenatore è la gestione appunto della squadra, il vivaio, i giovani, anche comunque i giocatori più esperti e più anziani, è il modo in cui uno la gestisce e non con che squadra la gestisce. Ho letto commenti della serie, mezzo a non fare la Premier League perché la stanno facendo tutti. La stanno facendo in tanti, è vero ragazzi, però la stanno facendo con squadre forti, perché penso a un Manchester United, penso a un Liverpool, sono squadre forti ragazzi. Io le quattro squadre che avevo chiesto di scegliere sono di media bassa classifica, anzi in questo momento stanno rischiando di retrocedere due di quattro squadre, quasi tre. Quindi cercate di capire, per me sono stimoli nuovi, stimoli diversi, che non ho mai provato, non ho mai allenato una squadra di bassa classifica nella Premier League, un campionato difficile, un campionato tosto, e quindi secondo me è una bella sfida che spero vi piaccia, perché alla fine dovete seguire anche e soprattutto me e spero che in questi mesi con l'Inter vi abbia fatto capire che genere di persone e che genere di allenatore comunque sono. Spero veramente ragazzi che mi sosterrete in ogni mia scelta. Ovviamente ragazzi sotto nei commenti voglio tantissimi consigli per il calcio mercato, poi adesso andremo a vedere la squadra, andremo a vedere la rosa, ma comunque partite subito con i commenti a bomba e poi continuate a vedere il video per capire meglio cosa cerco. Allora ragazzi andiamo a scegliere la nostra nuova carriera. Mi avete chiesto in tanti perché non fai la carriera con l'Ester, ragazzi, perché io l'ho già fatta con l'Ester in privato, l'ho già detto anche nello scorso video, e poi quella benché sarebbe una moda, perché adesso l'Ester è diventata la squadra più forte del mondo, la stanno facendo tutti e sarebbe veramente una noia mortale. Aumentiamo il budget e la rete mercato globale. Allora andiamo in Inghilterra, ovviamente avevo chiesto quattro squadre, lo Swansea è stato votato poco, l'Aston Villa un po' di più, c'è stata una grandissima notte tra Newcastle e Crystal Palace, ma alla fine l'ha spuntata il Newcastle, signori, questo è il Crystal Palace, vedete, vedi 3 milioni di budget, una squadra importante, una squadra importante, con già qualche giovane, ma ha vinto il Newcastle. Sono contento comunque perché ha buoni giovani, ha alcuni buoni giovani, e non so perché mi segna come a steno destro Toven, che in realtà è andato in prestito, in ogni caso, il nostro Newcastle, ovviamente leggenda, non mi ricordo se era 5-6 minuti, ma per il momento lasciamo 5, poi magari lo cambiamo. Il nostro stadio è lo San James Park, che signori, 50.000 posti a sedere, io ho 30.000 iscritti, chissà se alla fine di questa carriera riuscirò ad arrivare a 50.000 iscritti, non so se magari condividete, forse sì. Scarica ovviamente le rose più decenti, più recenti, non più decenti, non abbiamo nessuna competizione europea in questa stagione, perché l'anno scorso Newcastle, se non sbaglio, è arrivata quattu'ultima o quinta ultima, non mi ricordo. Ok signori, allora progetto Newcastle, che progetto sarà questo qui con il Newcastle, con il Magpies? Allora sarà un progetto complicatissimo ragazzi, complicatissimo, perché abbiamo una squadra comunque che viene da stagioni non di grandissimo successo, noi dobbiamo cercare di rialzarla, ma volevo inserire tanti giovani in questa squadra per farli comunque crescere e magari anche qualcuno di più esperto, adesso vediamo anche con il mercato, perché comunque comprare giocatori più esperti vuol dire spendere tanti soldi e non sarà facile, quindi probabilmente punterò molto sui giovani e anche con qualche giocatore ovviamente del Newcastle più magari esperto. È un progetto importante, perché secondo me i tifosi del Newcastle si meritano di stare almeno sopra la metà della classifica e con tanta forza di volontà ci possiamo riuscire. Ok, la squadra Newcastle nomina mezzo nuovo allenatore. Ci sono già dei giocatori interessanti, molto interessanti nella squadra Newcastle, poi adesso li andremo a vedere nella rosa. Ci sono dei giocatori molto interessanti, ma comunque acquisterò dei giovani, adesso vedremo anche quello che ci chiederà la società, acquisterò dei giovani da far crescere, perché secondo me questa è la squadra giusta per far crescere dei giovani e soprattutto la Premier League ha anche il campionato giusto. Molto complicato, perché ci sono anche tante competizioni, ma c'è molto spazio per farli appunto giocare. Ok, invito torneo pre-campionato. Ci andiamo a fare questo qui, che non dovrebbe essere complicatissimo, che ci dà anche più budget nel caso andassimo avanti. Purtroppo questi tornei pezzettano moltissimo il calendario, ma signori ci siamo. Inizia in questo momento la nostra nuova avventura sulla panchina del Newcastle. Andiamo un attimo nell'ufficio, vediamo. Coppa internazionale europea non interessa, Coppa nazionale raggiunge gli ottavi di finale, quindi dovrebbe essere la FA Cup. Dovremmo cercare un difensore centrale, secondo i nostri osservatori. Perfetto, ho già molte idee per la testa. E obiettivo campionato dobbiamo qualificarci per l'Europa League. Bene, bene, perché vedo che già ci danno degli obiettivi molto importanti. Allora, questa è la nostra formazione. Un 4, 4, 1, 1, 4, 5, 1. Quest'anno volevo provare a giocare con due punte, ragazzi, con due dannate punte, perché l'anno scorso ho già utilizzato questa formazione, magari potrebbe essere, non lo so, forse noioso, potremmo provare qualcosa di nuovo, magari. Per esempio, secondo me, una formazione abbastanza utile che potrebbe essere per questa squadra, potrebbe essere questa qui o addirittura questa, solo che io preferivo utilizzare gli esterni, in realtà in questo 4, 4, 2, quelli non sono proprio esterni, ecco, diciamo che sono controcapisti centrali. Quindi per il momento terrei questa, ma quando andrò a fare il mercato acquisterò anche un COC, un paio di COC magari giovani per poterli utilizzare magari anche per poter utilizzare magari anche un'altra formazione che potrebbe essere questa, quindi esterni, centrocampista offensivo e centrocampista difensivo. Vediamo su chi puntare, allora ordiniamo, qui abbiamo 4 portieri, Darlo, Woodman, Tim Krull ed Elliot. Allora Elliot va via, perché a 29 anni, 69, diciamo che non ci sta Krull, non puntavo molto su di lui, ma aspetterai a prendere un portiere. Mentre questi due sono abbastanza giovani, potrei tenere Woodman e dare via a Darlo. Terzini destri, Ian Matt e Sterry. Ian Matt il titolare, assolutamente, per me non ci sono dubbi. Sterry invece, 19 anni, 60, non è molto promettente in realtà. Ora difensori centrali, vabbè a parte quelli in prestito, abbiamo Curtis Good, che no, assolutamente. Abbiamo Steve Taylor, che è quello, diciamo, quasi il più esperto, che per me può rimanere. Mbemba, titolare inamovibile, 20 anni, 77, una bestia. Poi c'è questo, Jamal, la Shells, la Shelless, che in molti mi hanno detto che è forte, però 21 anni, 68 in realtà, è un po' indietro, secondo me, come overall. Quindi, potremmo lavorarci, ma non so cosa potrebbe uscirne fuori. Discorso a parte, per Coloccini, perché discorso a parte? Perché è fuori, praticamente fuori dalla squadra, nella realtà. Gli hanno tolto la fascia da capitano, non so veramente se ci sono stati dei problemi, anche disciplinari, però Coloccini in realtà non rientrerebbe nei miei piani. Più Steve Taylor, secondo me, però vedremo anche magari se ci arrivano delle offerte. Difensore centrale, l'unico intoccabile, è Kansel Mbemba. Terzini sinistri, Mbabu, non so cosa stia facendo nel mondo del calcio, Dammet, idem, e Massadio Haidara, potrebbe essere, non dico il titolare, ma ha una buona riserva. Centrocampista difensivi, abbiamo Colbach, Tiotè intoccabile, Anita in realtà, non lo vedo nei miei piani, più Colbach. Esterni destri, purtroppo abbiamo Toven in prestito, ma tornerà, suppongo, lo spero. Obertham non si può guardare, Barsler, idem, e Musa Sissoko si può magari, mettere in vendita, per cercare di alzare un po' il budget, trasferimenti, perché Townsend sarà il titolare, mentre Musa Sissoko può fare molti ruoli, è vero, però vediamo, non è insedibile. Esterni sinistri, Giorginio Wijnaldum, assolutamente non è per me un esterno sinistro, per me, vabbè che Giorginio Wijnaldum può fare tutto quanto, quindi, qualsiasi ruolo, Giorginio Wijnaldum sarà assolutamente il titolare, e farà il jolly. Rolando Arons, signori, uno dei più promettenti di questa squadra, e Johan Goufran, uno dei più scherzi, no, sto scherzando, Johan Goufran in realtà non mi piace molto. Poi abbiamo centrocampisti centrali, Shelby e Saivet, questi non sono assolutamente male, molto giovani e molto promettenti anche loro. Passiamo ai COC, che non mi fanno per niente passire, a parte De Jong, che non mi dispiace, Marvaux ci può guardare sinceramente. Cabella invece tornerà dal prestito, però per il momento nessuno di loro è intoccabile ragazzi. Gli attaccanti, abbiamo due attaccanti molto promettenti, come Mitrovic, 20 anni, 76, e Perez, 21 anni, 73. Poi abbiamo Rivière, che credo fosse più forte, e Papis Demba Sissé. Se Dudumbia in prestito, a fine anno se ne andrà praticamente. E quindi non abbiamo in realtà una formazione molto offensiva. Andiamo subito, avete capito ormai su chi punto, andiamo a mettere in vendita i giocatori. Ok ragazzi, ho messo un po' in vendita qualche giocatore, andiamo a vedere un attimo la rete e mercato globale prima di iniziare. Veloce e prolifico, potrebbe andare bene, età però, ci abbassiamo un attimo, perché almeno fino ai 25 anni potrebbe essere un'ottima, potrebbe essere un'ottima cosa. Manca, manca lo staff Primavera, perché voglio puntare anche su uno staff Primavera, quindi voglio puntare anche su su dei giovani, perché ci sta, sinceramente. Io li manderei, tipo, facciamo tre mesi, dotato tecnicamente. Perfetto, così per gennaio li abbiamo. Ora, andiamo a vedere un attimo gli allenamenti, velocemente, che abbiamo, che potrebbe già quasi salire. Abbiamo un buon Mitrovic che sta salendo, ma anche per S-Rivier, anche se R-R. Sono stato chiaro, non ci, non ci punto molto. Allora, ok, allenamenti che vanno abbastanza male, devo dire, mamma mia, non capisco perché vanno sempre male, non lo so. Allora, quindi, guardando la mia rosa, cosa mi serve? Mi serve sicuramente un paio di difensori centrali, un terzino destro di riserva e un terzino sinistro titolare, in realtà, titolare, perché Anita non è un terzino sinistro, ma ci sarebbe Aydara. Dato che non ho la più pallida idea di chi andare a cercare, sotto nei commenti voi scrivetemi le vostre idee, sia come portiere che come terzino sinistro, terzino destro. Consigli, 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 consigli. Tanto in questo episodio qualcuno acquisteremo, ma non già molte robe importanti, le lascerò a metà, così potrete anche darmi per gli aiuti. 42 milioni di budget e andiamo a cercare i nostri giocatori. Il primo che volevo acquistare e che acquisterò al 100% è Miasga, signori, difensore centrale da poco acquistato dal Chelsea. Forse uno dei difensori centrali più promettenti in questo periodo, contattiamo il Chelsea per acquistare, non dovrebbe chiederci molto e anzi provo a metterci in mezzo good che non userei. Quindi ho andrei 4 milioni più good per Miasga. Voglio fare anche degli acquisti ragazzi incentrati per il futuro, perché questa stagione, questa carriera probabilmente durerà 2-3 stagioni e quindi ho bisogno di giocatori giovanissimi da far salire a palla e un difensore è un difensore che ha queste caratteristiche ad Arabioio. Tosina da Arabioio 17 anni del Manchester City chiediamo di seguirlo ma andiamo anche subito ad acquistarlo perché probabilmente ci chiederanno pochissimo ed è così. Un esubero dei nostri tipo un bambu più magari 200.000 bombe vediamo se riusciamo a portarsi a casa questo giocatore sarebbe davvero davvero una gran cosa. Un terzino sinistro importante secondo me potrebbe essere Wendel utilizziamo Dummet come contropartita e proviamo già con 8 milioni più Dummet sarebbe un buon acquisto lui perché è già titolare praticamente potrebbe già tranquillamente fare il titolare e non sarebbe assolutamente male. Un centrocampista molto ma molto promettente centrale potrebbe essere Leander Dendonker dell'Underlecht Allora io direi Anita dato che non rientra nei miei piani Dendonker probabilmente costerà abbastanza quindi un milioncino due milioncini proviamo a mettergli più Anita passando invece agli esterni Gerson Martins tenterei di acquistarlo perché è una bestia perché ha 20 anni probabilmente già sul 78 79 quindi Obertan scusate ragazzi se lo dico ma Obertan è veramente scandaloso quindi direi Obertan più 5 milioni per Gerson Martins per quanto riguarda la sinistra invece Draxler ah beh sì in effetti Draxler CoC ma 35 milioni ma chiediamo informazioni ma dubito che me lo lasciano un altro CoC importante potrebbe essere questo Ziyech del Tuente non sarebbe assolutamente male ma credo che costi parecchio Maximilian Mayer o Mayer ditelo un po' come volete cerchiamo ancora qualche giovane un giovane su cui poter lavorare moltissimo è sicuramente Abdelak Nuri provo a dargli semplicemente Marvaux che non non ho intenzione di utilizzarlo un altro CoC su cui magari ci può lavorare Singraven dell'Ajax promettente Matteus Pereira sempre dello sport in Lisbona potrei andare a fare la spesa da loro praticamente eccolo qua 19 anni davvero molto promettente ora andiamo forte 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 sugli attaccanti ci sono tanti attaccanti che mi piacerebbe acquistare tra cui Paolo Di Bala assolutamente ricordiamo che abbiamo Mitrovic un giocatore d'aria di rigore in realtà quindi magari mettergli a fianco lui uno veloce abbastanza giovane non sarebbe male Divo Corighi o Origi come volete altro attaccante anche il Correa dell'Atletico Madrid che in realtà non vede molto il campo e che quindi potremmo magari portarci a casa per non dico poco ma una quindicina di milioni magari passiamo a un paio 2-3-4 attaccanti giovani giovani attaccanti giovani aggiungiamo la lista preferite anche Lagumina David Fopalà del Manchester City Borja Majoral del Real Madrid e Rubio Rubin del Utrecht sotto nei commenti ragazzi qualche attaccante un po' più esperto magari e uno di questi potrebbe essere Ben Yeder Wissam Ben Yeder anche perché mi accettano 4 milioni più good se non sbaglio per Miasga e non sarebbe assolutamente male potrebbe essere lui il nostro primo acquisto ok ci andiamo a giocare questa partita vi metterò qualche highlights ragazzi che gol del Napoli ragazzi madonna che gol ha fatto Mitrovic è il nostro bomber d'aria signori Mitrovic madonna ma ok Woodman non è non è pronto ragazzi Woodman non è pronto questo doveva uscire tutta la vita niente 3 a 1 ragazzi nella prossima partita proviamo Krull e poi vedremo se prendere un portiere ma e finisce qua ragazzi abbiamo perso 3 a 1 in bene pochi abbastanza bene in Bemba vediamo un po' i voti Mitrovic guardate si sè vergognoso si sè De Jong imbarazzanti Wijnaldum e Mitrovic migliori Bemba e Lascelles sono andati molto male ma Bemba so che è forte quindi ragazzi dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare ma si sa sarà una carriera davvero tosta abbiamo un'offerta per il trasferimento di Sterry per il prestito di due anni ed è il terzino destro l'accettiamo allora prima di acquistare anche il Correa proviamo innanzitutto con Rivière più 9 milioni proviamo ad acquistare Ben Yadder 13 milioni proviamo con Rivière che se non sbaglio giocava in Francia e magari vuole tornarla 6 milioni contentiamo anche Matteus Pereira che questo è uno di quei giovani che va acquistato per farlo crescere allora abbiamo delle offerte di mercato per Rivière e non sarebbe assolutamente male proviamo a fare un riscattino di 2 milioni e 200 e anche De Jong ragazzi anche De Jong proviamo 6 milioni e 200 magari il Nantz accetta purtroppo Dendonker ha accettato un'offerta del Bayer Leverkusen peccato allora l'Ajax ha accettato l'offerta per Abdelac Nuri 2 milioni più Marvaux proviamo non sarebbe male questo questo giocatorino 13 milioni 13 milioni più Dammet per Wendel secondo me a parte che Wendel secondo me Wendel li vale utilizziamo più o meno quello che utilizzavo anche con l'Inter ragazzi a sinistra proviamo Arons a centrocampo proviamo Saivet Mbemba ok Haidara Janmatt Townshend Mitrovic andiamo 1-0 il buon il buon no si Ayos Perez esattamente siamo stati anche abbastanza fortunati qua attenzione a Mitrovic c'è dall'altra parte Arons vai Mitrovic bella palla per Arons 2-0 Arons e con questo modulo si viaggia molto di più Arons è una bestia sono davvero molto soddisfatto per questa prestazione grandissima vittoria siamo comportati bene credo che questo sia il modulo più giusto per questa squadra abbiamo Dunbià sicuramente il migliore rispetto a Cisse e Riviere quindi Dunbià lo teniamo signori il mio il mio caro amico osservatore mi ha parlato di Vilena Anita glielo mettiamo dentro sicuro che detto così ok signori il primo acquisto se non sbaglio di questa nostra nuova avventura è Matt Miasca che arriva per 4 milioni più Curtis Good e abbiamo il nostro difensore centrale ragazzi allora abbiamo offerta per il trasferimento di Papis Demba Cisse dall'Hannover proviamo almeno 9 milioni per lui sarebbero ottimi 9 milioni per Cisse ok perfetto il Bormons ha accettato 2 milioni e 200 per Riviere mentre per Ben Yedder più 8 milioni 78 ho Ben Yedder non è male allora qui dobbiamo rifare il contratto a Nuri andiamo con 5 mila abbiamo offerto il trasferimento anche per Callback dal Tolose per lui l'alzo un po' di più sinceramente perché è un po' più giovane 6 milioni 800 non sarebbero male in realtà ok offerta accettata Matteus Pereira più Kevin Bamboo signori per cioè 3 milioni e 500 più Kevin Bamboo per Matteus Pereira sono pochissimi pochissimi e intanto accettano anche Tosina da Rabioio quindi è un altro difensore centrale che si va a inserire anche lui futuro componente della prima squadra un altro giocatore molto giovane su cui andare a lavorare andiamo a fare la formazione quella che sarà poi la titolare questa è la formazione che per il momento è quella titolare abbiamo messo Miasga al centro della difesa e vediamo come si comporterà aspettando Wendel sarebbe già una formazione abbastanza importante aspettando anche un buon un COC abbastanza giovane mi raccomando ragazzi sotto nei commenti consigliatemi un COC abbastanza tosto ma se riusciamo a vendere qualcosa secondo me potrà arrivare un buonissimo COC poi magari consigliatemi anche un terzino destro e un centrocampista centrale un attaccante fatemi i vostri soliti consigli abbiamo anche un portiere perché Krull si è comportato alla grande nello scorso match davvero molto bene sono contento